Dai che si va! Cos'è questa S? S4? Ok. Vai Giorgio, vai Antonio. Ci siamo, ci siamo. Cazzo Antonio! Infilati, infilati. Guardavo a Giorgio. Quattro di nuovo Giorgio? Si, si è piantato l'orina da curva Giorgio. Dove è Antonio? Il primo TM, il secondo è la Kawasaki 14, il terzo è la Honda. Il quarto è Giorgio. Il quarto è Giorgio, ok, ottimo. Antonio dove è? Non lo vedi. Tu vai nel fondo? Il quarto è il quarto. Cavolo ora sta passando Giorgio. E non Antonio. Dai Giorgio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.